L'impresa colossale di Elia Viviani e gli europei di ciclismo in corso a Monaco di Baviera. Dopo aver concluso al settimo posto la gara in linea su strada disputata nel pomeriggio, il Veneto ha vinto l'oro in serata nell'eliminazione su pista. Alle sue spalle il tedesco Theo Reinhardt, medaglia d'argento, e il belga Jules Esters Brozo. Agli europei di Monaco inizialmente Viviani avrebbe dovuto concentrarsi solo sulla prova nella quale l'anno scorso si laureò campione del mondo. L'eliminazione su pista di ciclismo. Dopo il forfè di Giacomo Nizzolo, però il CT Daniele Bennati lo ha coinvolto anche nella prova in linea su strada, la quale ha preso parte piazzandosi al settimo posto. Dopo 209 chilometri l'Azzurro ha chiamato il tecnico della pista. Marco Villa gli ha manifestato la propria disponibilità per la prova per la quale era stato convocato. Non solo vi ha partecipato ma l'ha quindi dominata prendendosi l'oro. Un'impresa davvero epica. Dopo un avvio controllato ha assunto il comando dell'operazione rimanendo sempre nella parte alta del gruppo. Negli ultimi giri ha fatto esplodere la propria potenza e si è messo alle spalle il tedesco e il belga. Volevo esserci a tutti i costi, le parole di Viviani. Mi sarebbe piaciuto mettermi al collo anche una medaglia su strada, ma va bene, così l'eliminazione è la mia corsa. Finita la gara su strada sono salito sul bus della nazionale, ho fatto la doccia, quindi sono rientrato in albergo, c'era il bassaggiatore ad attendermi, un bel massaggio e via verso il velodromo. Mezz'ora di riscaldamento e poi questa bellissima vittoria. Una forza e una lucidità impressionanti dunque che confermano le incredibili doti del campione olimpico veronese. Grazie a tutti.